Oltre 300 spettatori, 9 gruppi premiati, la festa finale con i fuochi d'artificio e l'inno di Mameli. Il Summer Party del Mediterraneo Village, trasmesso integralmente in diretta da Canale 189, è stato un autentico successo. Lo scenario della scalinata della Lega Navale, trasformato in passerella, ha accolto gli atleti prima e dopo le premiazioni. Sul palco si sono alternati dirigenti, allenatori e istruttori di tutte le categorie. Nuoto Smile Propaganda, Propaganda Senior, esordienti A e B, nuoto categoria e assoluti, nuoto master, sincronizzato, pallanuoto under 11, under 13, under 15, under 17, serie C maschile, under 17 femminile e serie B femminile. Ospiti della serata sono stati tra gli altri gli assessori comunali Francesco Cosa, Jonathan Scasciamacchia e Mino Ianne, il presidente del CONI Giuseppe Graniglia e il vicepresidente Michelangelo Giusti, il presidente del Panatron Taranto Club Magna Grecia Giuseppe Candreva, il neopresidente della Lega Navale Federico Sion e il vincitore della Brindisi Corfu di Vela, Leo Pellea, accolti dall'amministratore del Mediterraneo Village Antonello Cassalia, dal presidente della Mediterraneo Sport Antonio Rigo e dal direttore sportivo Massimo Donadei.